Il Partito Democratico di Taramo esprime solidarietà nei confronti della Polizia di Stato per l'aggressione subita, alcuni giorni fa, da alcuni agenti in Piazza Garibaldi. Vediamo. Nei giorni scorsi in Piazza Garibaldi c'è stato un episodio inquietante per quanto riguarda la realtà terramana, agenti di polizia aggrediti. Voi ovviamente esprimete solidarietà ma fate anche delle proposte. Assolutamente. Nei giorni scorsi è uscita sulla stampa una nota, il SAP, il sindacato autonomo di polizia, nella quale gli agenti del sindacato terramano descrivono la situazione di disagio e di carenza che stanno vivendo attualmente gli agenti qui a Teramo. In particolare denunciano un grave episodio che si è verificato alcune serie fa qui in città. Quattro agenti di polizia che si sono recati in Piazza Garibaldi a seguito di una chiamata al 113 sono stati aggrediti da un gruppo di cittadini nazionalità albanese. I quattro agenti sono poi andati in ospedale e hanno ricevuto una prognosi complessiva di 58 giorni. Nonostante tutto, grazie alla loro professionalità e anche alla loro preparazione, l'intervento si è concluso con un arresto e una denuncia di due aggressori. Questo ovviamente è un episodio molto inquietante che riporta al centro dell'attenzione la zona di Piazza Garibaldi, che è una zona dove anche in passato, nei mesi scorsi, si sono verificate già molte risse. Continua ad essere purtroppo un luogo di ritrovo per la microcriminalità e anche nelle ore serali e notturne per soggetti poco raccomandabili. Per questi motivi il Partito Democratico di Teramo, nell'esprimere la totale solidarietà e vicinanza agli agenti della Polizia di Stato di Teramo feriti nell'aggressione e a tutti i loro colleghi della Questura, chiede all'amministrazione comunale di installare delle telecamere di videosorveglianza nei punti caldi della città. In particolare proprio in Piazza Garibaldi, nell'area tra la chiesa e i giardini e davanti all'ingresso della villa comunale. Proprio perché con le telecamere è possibile dare ai cittadini una maggiore percezione di sicurezza, specialmente come dicevo prima nelle ore serali e notturne, e dare anche un osiglio al lavoro prezioso delle forze dell'ordine.